Esperti in politiche attive del lavoro in Sicilia, oggi potrebbero trovare collocazione come navigator. Chiusa l'inchiesta sulla nave di Ciotti a Catania, sotto accusa 4 scafisti e si attende la memoria difensiva del ministro Salvini. Elezioni amministrative, in Sicilia si voterà il prossimo 28 aprile, 34 i comuni al voto. Bentrovati alla seconda edizione di Media News di mercoledì 6 febbraio. Esperti in politiche attive del lavoro in Sicilia, figure professionali fuori dal mondo della formazione da 5 anni, oggi potrebbero trovare collocazione come navigator, in quello che sarà l'iter per ottenere il reddito di cittadinanza. La nostra avvertenza, come tutti ormai sanno, dura da 5 anni. In questo momento c'è questo treno che sta passando appunto sui navigator, quindi non vediamo la motivazione per la quale si deve cercare altre professionalità in altri ambiti che devono peraltro essere poi anche qualificati se già ci siamo noi. che pur essendo licenziati vogliamo dire però che siamo dei precari morali, perché c'è un fattore di moralità nei confronti di 50 anni che hanno perso il lavoro ingiustamente e che quindi ora abbiamo l'opportunità di riprenderci il nostro lavoro. Quindi vi presenterete a Roma come dei navigator in pector nei prossimi giorni? Allora noi ci presenteremo a Roma perché c'è un tavolo aperto e il tavolo è stato aperto il 13 luglio e non in peste solo il settore diciamo degli sportelli multifunzionali ma in peste tutta la formazione perché i colleghi degli interventi anche loro sono stati letteralmente buttati per strada. Vero è che ci sono degli avvisi e quant'altro ma che non riescono a coprire tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro. Quindi diciamo che Roma è un discorso unitario insieme a tutta la formazione professionale. Noi giorno 20 abbiamo intenzione di ritornare a Roma per spincere il governo nazionale a mettere subito in atto tutte le possibili soluzioni. C'è un tavolo aperto abbiamo detto e questo tavolo aperto è stato poi ci sono incontrati praticamente gli assessori della regione siciliana insieme ai componenti del governo nazionale e hanno fissato come data ultima di presentazione di tutti i dati perché un tavolo di crisi senza dati non si può aprire ovviamente per il 20 di febbraio. E dopo ci sarà almeno da quello che hanno detto una riunione di nuovo la seconda riunione tra queste due istituzioni per addivenire ad una soluzione che sicuramente sarà anche variegata e dove si potranno utilizzare anche le norme nazionali. Oggi il quadro si è ulteriormente complessificato nella misura in cui abbiamo delle misure nazionali che sembrerebbero voler intervenire a favore di questa platea, abbiamo delle misure che prevedono la reguazione del benetto reddio di cittadinanza e abbiamo d'altra parte degli operatori che sono stati formati con risorse regionali. Pensate che qualcuno ha persino pagato rispetto all'impegno economico che è stato predisposto. Questo significa che risorse importanti sono state erogate e la beffa finirebbe con essere quella di non vedere impegnati questi soggetti dopo che sono stati formati. Rischiamo che questo reddio di cittadinanza in Sicilia non partirà mai o partirà in tempi lunghissimi conoscendo i tempi della burocrazia. Abbiamo invece degli operatori che sarebbero nelle condizioni di farlo già domani mattina e quindi non comprendo perché non si debba fare. Ci tengo ovviamente però a dire che la causa delle politiche attive del lavoro si inserisce in una vertenza più grande che è quella della formazione professionale tutta ed è per queste ragioni che gli interventi da una parte e i servizi dall'altra si stanno organizzando per andare a Roma e chiedere un intervento decisivo e definitivo da parte del Ministero. Sono 2.961 le domande di pensione a quota 100 presentate finora all'Inps in Sicilia. Il dato aggiornato alle 19 di ieri è stato comunicato dall'Istituto di Previdenza. Sfiorano quota 3.000 le domande di pensione in Sicilia per quota 100. Secondo l'ultimo dato aggiornato alle 19 di ieri sera sono 2.961 quelle presentate all'Inps. Le richieste più numerose si registrano nella provincia di Palermo con 747 istanze. Seguono Catania con 659, Messina con 415, Agrigento con 252, Trapani con 249, Siracusa con 221. In Coda Enna dove sono state presentate 141 domande, Caltanissetta 140 e infine Ragusa con 137. Secondo i dati dei sindacati sono 30.000 siciliani che hanno i requisiti donei. In totale l'incidenza delle domande nell'isola è pari a oltre il 10% del totale nazionale, dove le domande hanno superato le 21.000 richieste in 24 ore. Di queste il 42%, oltre 9.200, proviene dalle regioni del sud e dalle isole. E intanto, secondo il presidente Inps Tito Boeri, il dato stimato nell'arco di un anno è di 290.000 domande. Sugli effetti del decreto quota 100 poi commenta è molto difficile che le persone che lasciano il posto di lavoro vengano sostituite con qualcun altro, perché spesso le persone che lasciano sono imprese in declino, mentre le assunzioni avvengono altrove. E aggiunge, non siamo come in un autobus all'ora di punta, che per far salire bisogna far scendere qualcuno. Noi abbiamo stimato che in alcuni contesti e per brevi periodi di tempo si può avere un rapporto che ogni tre pensionati c'è un giovane in più, ma sono casi limitati ed abbastanza estremi. Cambiamo argomento. Chiusa l'inchiesta sulla nave 18 a Catania, sotto accusa a quattro scafisti, e si attende la memoria difensiva del ministro Salvini. La procura del capoluogo indaga sui trafficanti di migranti, cui contesta l'associazione per delinquere. Rischia nel processo tre egiziani e un bengalese. La procura di Palermo ha chiuso l'indagine sui quattro presunti scafisti che nell'agosto scorso avrebbero condotto un barcone con 190 migranti a bordo, partito dalla Libia e diretto in Sicilia, e soccorso dalla nave 18. La vicenda per i ritardi nello sbarco dei 177 rimasti a bordo ha portato alla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, avanzata al Senato dalla procura di Catania, su ordine del Tribunale dei Ministri del capoluogo Etneo. Per l'ipotesi di sequestro di persona attribuita al vicepremiere e ministro dell'Interno è competente, infatti, la magistratura catanese, perché lo sbarco dei migranti fu impedito per alcuni giorni tra le acque delle province di Ragusa e Siracusa e il porto di Catania. La procura di Palermo si occupa invece della parte relativa al viaggio partito dalle coste libiche il 16 agosto, con una quanto mai precaria imbarcazione, entrata in acqua italiana e nell'area di Lampedusa, dunque in provincia di Agrigento, territorio del distretto giudiziario del capoluogo della Sicilia. Gli indagati, tutti in carcere, sono gli egiziani Ahmed Shalabi Farid, di 23 anni, Ashraf Abnibbrahim, di 39, Al-Jesar Mohamed Ezzet, di 24 anni, originario del Bangladesh, e infine Shalom Mohamed, di 26 anni. I PM contestano l'associazione per delinquere, finalizzata alla tratta di esseri umani, violenza sessuale e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con una serie di aggravanti, come avere fatto parte di un'organizzazione che teneva i migranti in campi di prigionia in Libia, dove venivano sottoposti ogni sorta di abusi e vessazioni, e che li faceva partire su una tanti fatiscenti, con enormi rischi per l'incolumità personale, dopo avere pagato ingenti somme di denaro. I quattro furono identificati, grazie alle testimonianze delle persone tratte in salvo. Per la stessa ragione per cui l'indagine sugli scafisti era stata aperta dalla DDA di Palermo, inizialmente anche la competenza del Tribunale dei Ministri era stata attribuita ai giudici del capoluogo siciliano, che poi l'avevano trasferita a Catania. Elezioni amministrative in Sicilia. Si voterà il prossimo 28 aprile. Le 34 i comuni al voto. Polemica dei 5 stelle sul mancato Election Day. La risposta dell'assessore Grasso, scelta obbligata per il ritorno delle elezioni delle ex province. In Sicilia si voterà per le elezioni amministrative il prossimo 28 aprile, con eventuale ballottaggio, il 12 maggio. Non ci sarà quindi l'Election Day con le europee, prevista in una data compresa fra il 23 e il 26 maggio. Polemici deputati del Movimento 5 Stelle che sottolineano che questa scelta costerà ai siciliani un milione di euro. In un momento in cui ci apprestiamo a varare una manovra lacrime e sangue con tagli pressoché generalizzati in tutti i settori e con i servizi essenziali appesi a un filo, afferma il capogruppo Francesco Cappello, certe scelte appaiono del tutto folli. La data del 28 aprile individuata dal governo per le prossime elezioni amministrative nell'isola è stata una scelta obbligata dalla decisione del Parlamento siciliano. Nella legge regionale che consentirà finalmente alle ex province di tornare al voto, dopo anni di continui commissariamenti, infatti è stato previsto che il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali fosse antecedente a questa consultazione. Lo dice in una nota l'assessore regionale alle autonomie locali Bernadette Grasso rispondendo alle polemiche sul mancato election day. Visto che a fine maggio si voterà anche per il Parlamento europeo quindi non c'erano altre possibilità. L'ipotesi di un election day tra amministrative ed europee non era praticabile, sostiene Grasso, perché avrebbe fatto slittare le elezioni di città metropolitane e liberi consorsi dei comuni a dopo il 30 giugno, costituendoci all'ennesima norma di proroga dei commissari straordinari e quindi con ulteriori costi per gli enti locali. I comuni siciliani che vanno al voto sono 34. Nell'Agrigentino si voterà ad Alessandria della Rocca, a Caltabellotta, Naro, Santa Elisabetta, nel Nisseno a Caltanissetta, Gela, Mazzarino, San Cataldo. Nel Catanese a Daci Castello, Motta Sant'Anastasia, Ragalna, Zafferana. In provincia di Enna si voterà da Idone. Nel Messinese a Brolo, Condro, Leni, Mandanici, Mistretta, Rometta, Spadafora, Tortorici. Nel Palermitano saranno rinnovate 5 amministrazioni, Bageria, Bonpietro, Cinisi, Monreale e Roccamena. Nel Siracusano si va alle urne a Pachino, mentre nel Trapanese si voterà Calatafimi, Segesta, Mazzara del Vallo, Sala Perute e Salemi. Nel giorno del compleanno di Mario Francese, a 40 anni dalla sua uccisione per mano di Cosa Nostra, oggi alla Prefettura di Palermo incontro con gli studenti delle classi superiore sul valore insostituibile dell'informazione. I giornalisti Paolo Borrometti e Annabelle Randez hanno raccontato attraverso le proprie storie e il proprio impegno l'importanza della notizia e della verità. Il ruolo del giornalista è fondamentale soprattutto per far conoscere i fatti, ma spesso la verità. La verità, i fatti e la verità devono essere la stessa cosa. E' importante l'informazione perché è la base per una democrazia partecipata. Partecipazione è l'essenza della democrazia. Non ci può essere partecipazione se la gente non è consapevole, se non ha consapevolezza, se non ha conoscenza della verità e dei fatti. Quindi è imprescindibile la democrazia di sviluppo culturale e sociale di un Paese. Eppure anche in un Paese democratico a volte i giornalisti vanno difesi. No, devono essere sempre difesi i giornalisti perché quando dico la verità e colpiscono al cuore un sistema, questo mafioso comunque di potere, certamente danno fastidio e quindi vanno assolutamente difesi come vanno difesi tutti coloro che diciamo sono e si prodigono per la legalità. Penso che in questo momento di crisi mondiale dove la democrazia è in rischio il ruolo del giornalista è fondamentale perché è l'unico che veramente può dire la verità alla società quando il governo vuole occultarla. Sembra un momento difficile perché prima era anche più semplice dire la verità, oggi tante volte si tende a seperlirla. A me sì con un esempio molto chiaro di questo. Più di 200 giornalisti hanno stato uccisi negli ultimi 12 anni per il governo, per la complicità del governo e il narcos perché né il governo del narcos vuole che in Messico si dica la verità su di questa complicità tra il governo e il narcotraffico a Messico. Messico è uno dei paesi più peligrosi per essere giornalista. Devo dire che in Messico hanno ucciso più giornalisti anche da Afghanistan e Livia o Siria dove è chiaramente una guerra. Io penso che l'informazione per stessa definizione deve essere libera. L'articolo 21 della Costituzione è il diritto del giornalista a informare ma soprattutto è il diritto del cittadino a essere informato. Quindi ognuno di noi ha una grande responsabilità che non è solo quella di fare bene il proprio dovere ma spiegare ai cittadini cosa accade nelle proprie realtà perché solo grazie all'informazione, solo grazie al giornalismo libero i cittadini saranno capaci di scegliere da che parte stare. Tu ti senti sufficientemente tutelato a questo punto? Ma a me lo Stato mi ha salvato la vita. Da pochi mesi fa è stato scoperto quell'attentato con un'autobomba nei miei confronti e l'ha scoperto questa squadra Stato che ha funzionato. La vita sotto scorto è una vita dura però è la possibilità di continuare a fare semplicemente il proprio dovere. Ieri sei stato anche insegnito per la cittadinanza pavermitana. Sì, è stato un grande onore. Questa città è una città meravigliosa, è una città martire della mafia è una città dove per qualcuno è nata la mafia per me invece è nata la cultura antimafia non solo l'associazionismo antimafia ma la cultura antimafia la cultura di persone che hanno speso la propria vita per resistere e per tutelare i veri valori. Protesta dei dipendenti comunali davanti a Palazzo delle Aquile a Palermo nel giorno dell'audizione del sindaco Leoluc Orlando dopo i rilievi mossi dal MEF. In una recente lettera inottata dal Ministero dell'Economia e Finanza si mette in discussione lo status dei lavoratori del COIM addirittura si dichiara l'eccedenza di questo personale anche l'applicazione del contratto dei chiedini. Noi siamo qui per chiedere al Comune e al sindaco, all'amministrazione e al Consiglio Comunale un pronunciamento chiaro. I lavoratori vanno garantiti dal loro status sia per l'applicazione del contratto sia per quanto riguarda il tempo indeterminato. Sono lavoratori a tempo determinato per legge. Vorremmo anche capire chi è lo smemorato che non ricorda che questi lavoratori sono stati assunti a tempo indeterminato. Chi è lo smemorato che non ricorda che questi lavoratori hanno diritto all'applicazione del contratto delle edilizie è una decisione diversa, comprometterebbe appunto lo status economico di questi lavoratori. Sindaco, al vaglio ai rilevi del MEF, fuori c'è la piazza che chiede chiaramente garanzie. I sindacati hanno pronunziato danni e conseguenze sul fronte occupazionale. Io credo che la mia presenza qui in aula è un'azione antiterrorista, essendo terroristico il comportamento dei cosiddetti ispettori ministeriali. Non hanno letto le leggi, hanno disapplicato provvedimenti del ministero dal quale dipendono e hanno preteso di invocare eccedenze di personale e violazione dei diritti del personale in aperta violazione delle norme alle quali ci siamo attenuti. Ma in realtà il vero responsabile di questa situazione è assolutamente Orlando, il quale in quest'aula, giusto qualche mese fa, ha parlato addirittura di un intervento diabolico relativamente a quelle che sono state le stanze degli ispettori del Ministero dell'Economia e della Finanza, ricordiamolo, dai veri ispettori del Ministero dell'Economia e della Finanza che hanno fatto le pulci, come si vuol dire, a quelli che sono non soltanto la pianta organica dell'amministrazione comunale, ma l'intero impianto. Una serie di rilievi, ben 46, soltanto a 8 sono stati i rilievi infatti accolti. Per quanto riguarda tutto il resto c'è stato un totale di niego, una totale non accettazione di quelle che sono state le risposte di questa amministrazione che non ha saputo assolutamente rispondere, forse perché la dinamica è davvero molto complessa o forse perché il nostro caro sindaco ha tentato di spostare l'attenzione su una sorta di complotto di natura politica. Prigionieri in 41 bis in condizioni inaccettabili. Il garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, attacca l'applicazione della misura. Sono 738 uomini, 10 donne e 5 internati in casa di lavoro i detenuti sottoposti al regime del carcere duro, il 41 bis. E in base ai dati aggiornati al gennaio 2019, soltanto 363 di essi e delle 10 donne, solo 4, hanno una posizione giuridica definitiva. A segnalarlo è il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, che ha visitato tutte le sezioni per i detenuti al 41 bis. Ci sono inoltre 18 persone ricoverate nel reparto ospedalieri interni agli istituti, a Parma e a Milano Opera. A fronte di questi numeri, le condizioni materiali in alcune sezioni per i detenuti sottoposti al carcere duro risultano inaccettabili, scrive Palma, che ha visitato tutte le sezioni in cui si applica questo regime. Le principali criticità riscontrate riguardano le situazioni soggettive relative alle reiterate proroghe del regime e all'inserimento di alcuni detenuti in aree riservate che finiscono per costituire un regime nel regime. In alcuni istituti, l'adozione di regole interne, eccessivamente dettagliate su aspetti quotidiani, vanno anche oltre le già minuziosi prescrizioni della circolare del 2 ottobre 2017, sottolinea il garante, ricordando di avere già espresso a suo tempo alcune riserve. L'esame dell'attuazione del regime speciale si è sviluppato nel solco tracciato da diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti Umani, che individuano la piena necessità di misure volte a proibire ogni forma di comunicazione con le organizzazioni criminali di appartenenza e al contempo a vietare ogni altra misura che possa configurarsi come inutile aggiuntiva afflizione. E adesso vi raccontiamo la storia di Stefano, un volpino che a Mazzarino, dopo tre anni, aspetta in ospedale il ritorno del suo padrone morto di infarto. Un legame indissolubile che supera persino la morte. Una storia d'amore e di dedizione che supera la morte, che non finisce nonostante tutto. Arriva da Mazzarino, nel Nisseno, e il protagonista è un cagnolino che, fedele al suo padrone da quasi tre anni, attende di vederlo uscire da quella porta che un pomeriggio d'estate lo ha portato via per sempre. Ma lui, un volpino dagli occhi buoni ma ormai spenti, lo aspetta nella speranza di poterlo accogliere scodinsolando, così come faceva prima. Una storia che testimonia quanto indissolubile possa essere il rapporto tra un uomo ed un cane. Una vicenda che ricorda quella che negli anni 30 avvenne in una città del Giappone, dove un cane attese per dieci anni il ritorno del suo padrone, fino alla fine dei suoi giorni. Lo hanno ribattezzato Stefano, come l'ospedale Santo Stefano. In poco tempo è diventato la mascotte di dipendenti e pazienti, che non gli fanno mancare mai cibo ed acqua, e che amorevolmente gli hanno costruito anche una bella cuccia. Ma Stefano non sembra apprezzare, come Giaciglio ha scelto uno spazio minuscolo accanto all'ambulanza e se piove si rannicchia sotto il mezzo. Quando per l'emergenza i paramedici salgono a bordo, lui si sposta, fissa l'ambulanza a partire e ne attende il ritorno. Nelle giornate più calde si appisola in giardino, al massimo si concede una passeggiata, gironzolando attorno al perimetro del cortile, diventato la sua nuova casa. Salvatore Bonaffini, in servizio al 118, è uno dei paramedici che soccorse l'anziano ormai deceduto quasi tre anni fa. Era un uomo di Barra Franca, che però viveva a Mazzarino. Un giorno si è sentito male a casa per un'insufficienza cardiaca. L'abbiamo soccorso e portato in ospedale, ma non è riuscito a superare la crisi. E quel giorno, a seguire l'ambulanza, c'era anche il suo cane. E il suo cane è rimasto lì ad aspettarlo, perché l'amore va oltre la morte. L'ASD Palermo Biliardi organizza la terza prova istituzionale di terza categoria. L'associazione promuove la disciplina sportiva del biliardo all'insegna del divertimento e dell'inclusione sociale. Siamo a Palermo da quattro anni e finalmente siamo riusciti a fare un qualcosa di bello che lo sport del biliardo mi ha fatto a livello sportivo, perché Palermo aveva perso un po' questa tradizione del biliardo sportivo. Siamo venuti a fare questa esperienza molto bella che sta crescendo, che noi ci siamo visti già qualche tempo fa, rispetto a prima, sta crescendo molto. Oggi la gara, c'è una gara territoriale chiamata così, è praticamente la provincia di Palermo che gioca qua a Palermo e è valevole per le qualificazioni al campionato italiano che si fanno di solito a Semvensan. A giugno c'è tutte le categorie del biliardo che giocano a Semvensan e quindi questa è una prova fatta che gli atleti che vincono acquisiscono dei punteggi che poi alla fine serve per la classifica provinciale per andare a disputare il campione italiano. E voglio dire che ultimamente, negli ultimi anni, i campioni italiani siciliani sono stati tanti, quasi tutti. Io sono Ignazio Raimondi, sono un medico che dopo il pensionamento, nonostante continuo a fare il libro professionista, però mi sono appassionato a questo bellissimo gioco che è il biliardo. Cosa l'ha portata qui? L'ha portata perché frequento un circolo a Termini Merese dove c'è un bellissimo biliardo, dove ci sono altri amici che giocavano a questo gioco, che avevano molta più esperienza di me e da autodidatto ho letto qualcosa, poi chiaramente ho provato e mi sono appassionato. È un bellissimo gioco, ti crea associazione, ti crea un gioco tra amici nel senso che si sfottò reciproci e chiaramente se si prende nel giusto verso, perché poi ci sono delle condizioni in cui durante la gara ci può essere un po' di agonismo, però sostanzialmente crea la possibilità di socializzare, è un bellissimo gioco. Parliamo del biliardo, questa è una disciplina chiaramente non moderna che richiede molta metodologia, disciplina e attenzione, come ci diceva il nostro amico. Il nostro amico aveva perfettamente ragione, pensi che io ho 92 anni e almeno sono 80 che gioco a questo biliardo. Fra l'altro le posso assicurare che ce l'ho nel sangue, perché ho un fratello, avevo un fratello che giocava molto bene, papà mio che ancora prima che io nascessi era uno dei migliori giocatori d'Italia. Quali sono le emozioni che questo gioco le ha portate? No, ma guardi, io purtroppo sono diventato molto emotivo, un fatto che chiaramente è dovuto anche all'età, capirai, insomma, è una vita che vivo di biliardo e quando parlo di biliardo mi lepio. Non posso fare altro che confermare quanto detto dal mio predecessore, è un gioco bellissimo e invito tutti i ragazzi a frequentarlo perché vale veramente la pena. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Medianews. Grazie. 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 Grazie.